I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono un po' pazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un dio che non li vuole, mi fabrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardiamo tra me voi, che più verità. Ed avevo paura, avevo sempre paura. Dissero che mi portavano in un posto dove la paura andava via. Lì dentro ho smesso di vivere. Dissero che mi portavano in un posto dove la paura andava via. Qui c'è la stampa dei quadri, eh? Anni, qui c'è anche la stampa dei quadri dove ci sono tutti i denti. Ah, ok, da dove ci passiamo? Andiamo su, guzzo noi. Ok. Ti ho fatto qua niente, Deborah? No. No. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ti stiamo dando fastidio? Sembrava come un bicchiere di vetro caduto per terra Che puoi di fare? Grazie a tutti Vi va di guardare qualcosa di cima a noi? Anche noi stiamo girando un film Lì c'è una torcia Che potete fare diminuire e aumentare l'intensità C'è una torcia? Che senti questa torcia di passato? Per quanto è stato tipo di zolfo? Per me invece è l'ospedale vecchio Hai ragione Mi correbbe, hai ragione tu Fate cadere la pallina Fate quello che volete D'accordo? Buon divertimento Grazie a tutti 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 Grazie a tutti